Buongiorno a tutti, adesso si sente. Cominciamo con la presentazione del 33esimo rapporto immigrazione 2024, lavorato da Caritas Migrantes, Popoli in Cammino è il titolo del rapporto di quest'anno, come al solito ricco di dati, appuntamento atteso e ricco anche di contributi che hanno l'idea, il tentativo, l'obiettivo di provare e incidere sulla narrazione che, come viene poi detto nel rapporto, lo dico da operatore dei, una narrazione molto spesso distorta. Questo è un rapporto che parla della realtà che vediamo tutti i giorni ed è una realtà molto spesso ignorata, ma sta diventando sempre più l'Italia di oggi, questo è un rapporto che la racconta. Cominciamo subito con gli interventi, attendiamo che arrivi il padrone di casa, che è il lettore della Pontificia Università Albaniana, che ha impegni che si sono protratti, ma noi proseguiamo con il programma e cedo subito la parola all'Arcivescovo di Cagliari, il segretario generale della CEI, sua eccellenza, Monsignor Giuseppe Paduri. Grazie. L'interesse è sempre grande perché questo rapporto immigrazione è sempre un punto di vista privilegiato su un fenomeno su cui spesso le attività oppure gli interessi politici che prevalgono sulla conoscenza della realtà. Il senso di un rapporto non è risolvere la realtà, l'informazione, ma è quello di consentirci di conoscere ciò che davvero sta accadendo. Quindi ringrazio per questa trentatresima edizione curata dai due organismi della Chiesa italiana, la Caritas italiana e la Fondazione Migrantes. Tanto più che queste due realtà collegate alla CEI hanno saputo dialogare con altri uffici e altri servizi della segreteria generale della CEI. L'attualità, la politica, la vita ecclesiale confermano come la mobilità umana sia uno dei fenomeni più complessi. Ecco, discussi nel nostro tempo, ma discussi proprio perché è una realtà che si impone. Quindi la pubblicazione di questo rapporto è davvero importante. Se sappiamo però guardare i numeri come una via d'ingresso nella conoscenza di un fenomeno che riguarda storie o di persone concrete. E se sappiamo leggere questo fenomeno come una sfida, un appello alla Chiesa, ma alla società tutta. Perché noi incontriamo delle persone, sì, bisognose, delle persone che richiedono la nostra presa di posizione. Ringrazio il Rettore, il Professor Vincenzo Bonuomo, per l'invito a presentare il rapporto di immigrazione presso questa Pontificia Università Urbaniana. La cui attività, deco così nel sito, è mirata a contribuire alla missione evangelizzatrice della Chiesa, adegente, in ogni tempo e in ogni luogo. Si è consentito allora soffermarmi anzitutto su questo perché la missione evangelizzatrice della Chiesa, l'annuncio, cioè lieto di un Dio che si fa carne, che entra dentro la storia, che risorge per permanere dentro la storia e manifestare così l'amore del Padre, è davvero la natura della Chiesa ed è particolarmente sentita in questo Ateneo. Ma non è possibile l'azione evangelizzatrice senza tener conto della condizione dei destinatari della luce. Quindi non è possibile un'azione evangelizzatrice che non si faccia carico della realtà storica. È un fenomeno, quello migratorio, che coinvolge la società dei territori di missione, ma anche il credo missionario, il religioso e leggiose delle giovani Chiese, ma che riguarda le nostre Chiese. Non a caso che si esprime questa tensione sempre più come collaborazione o cooperazione missionaria tra le Chiese. E questo significa anche un cambiamento della nostra concezione di missione. Comunque vorrei soprattutto dire la necessità, come il Papa scrive nella Costituzione Apostolica Verità di Seraul, in circa le università e le facoltà ecclesiastiche, che la missione evangelizzatrice della Chiesa tenga conto, sotto la guida dello spirito, di ciò che davvero accade, dei segni dei tempi, delle diverse espressioni culturali. Perché l'invito del Concilio Vaticano II resta validissimo. È necessario discernere i segni dei tempi perché l'annuncio del Vangelo possa essere adatto a ciascuna generazione, rispondente ai perenni interrogativi dei uomini sul senso della vita presente, quella futura, e sulle loro relazioni reciproche. E quindi interrogarsi allora sul fenomeno migratorio appartiene alle azioni missionarie della Chiesa, alla sua attenzione inesauribile di annuncio del Vangelo. Un secondo aspetto vorrei sottolineare, il fatto che si svolga questa presentazione per la prima volta, penso in questo Ateneo, è che il processo di elaborazione e del rapporto ha coinvolto tante realtà, università, insegnanti, ricercatori, le associazioni del terzo settore, ambienti iglesiali in Italia e al destino. Il risultato di questo processo è questo rapporto, in cui vengono presentati non solo problemi e ostacoli, ma storie, storie di coraggio e di speranza, perché una vera conoscenza della realtà non può prescindere dalla conoscenza dello sviluppo dell'esistenza concreta di ciascun uomo situato in contesti particolari. Ci sono certamente difficoltà, si propongono soluzioni e riflessioni, ma soprattutto si dà spazio alla testimonianza, alla testimonianza di uomini e donne che affrontando il percorso migratorio o il percorso di integrazione qui in Italia comunque segnano una traiettoria sul proprio destino. È un invito, cioè a superare il giudizio, a comprendere le dinamiche dell'integrazione a partire dalle storie dei uomini. Un terzo spunto vorrei offrire. Il fatto che questo rapporto abbia tenuto conto delle riflessioni delle università e si venga presentato in università mi fa ricordare un evento importante che ha visto coinvolta, anzi protagonista alla CEI nel 2022 con la firma della Carta in Firenze. Lì si individuava, a proposito delle dinamiche di pace nel Mediterraneo, un privilegiato ambito di lavoro nella predisposizione di programmi educativi e in particolare dei programmi universitari comuni, rivolte particolarmente ai giovani del Mediterraneo per una migliore conoscenza reciproca delle proprie tradizioni e delle particolarità culturali di ciascun paese. In un momento in cui il Mediterraneo è di nuovo infiammato dalla potenza devastatrice della guerra che non risparmia ospedale, non risparmia scuole che vuole ridurre tutto dentro una logica di potere e ribadire l'esigenza di uno sforzo condiviso tra governi, sindaci, dentro le chiese, le istituzioni scolastiche universitarie per un percorso educativo di conoscenza per i giovani è davvero fondamentale perché pensare alla pace significa pensare all'educazione e significa pensare a ciò che nel mondo è assolutamente libero che è la coscienza e una pace senza educazione, senza coscienza ha accorto un respiro il respiro di una pausa dentro un conflitto il Papa ha più volte ribadito che il mondo può cambiare ma ha ribadito più volte che il cambiamento del mondo deve far fermo sulla potenza trasformatrice dell'educazione cioè significa guardare i giovani, pensare al futuro e parlare al cuore altre soluzioni bisogna cercarle ma sono di corto respiro quello davvero importante è pensare alla potenza trasformatrice dell'educazione il fatto che io sia adesso dentro un'università mi sembra profetico l'educazione infatti rende la persona più libera e responsabile e più capace di speranza noi non possiamo pensare a trasformare questo mondo senza immettere la giusta dose di speranza questo naturalmente significa ed è il quarto punto anche ciò che noi facciamo e pensiamo è per l'uomo è per la sua dignità è per amore all'uomo un amore all'uomo che deve prevalere su qualsiasi altro calcolo per cui il tema dell'immigrazione deve continuamente saper rapportare le singole misure una nazione dell'Europa con la necessità del rispetto della dignità delle persone e il rispetto della dignità delle persone significa anche farsi carico dell'interezza dei bisogni di vita che non sono solo bisogni quantitativi ma bisogno di cultura bisogno di speranza bisogno di amicizia bisogno di integrazione e come è stato detto dal Papa Marsiglia di promozione perché l'integrazione non è mai assimilazione e se noi assimilassimo persone provenienti da altre culture senza promuovere la specifica e peculiare provenienza avremmo fatto una cosa non bella e quindi il tema della dignità delle persone è il tema della promozione di queste presenze dentro l'Italia a questo proposito poi mi piace ricordare questo è l'ultimo pensiero non so se sono arrivato a quarto o cinque chi vuole può recuperare al tema dei quasi 900.000 ragazzi e ragazze di figli immigrati che frequentano la scuola penso che fra poco saperemo dei nomi anche questo è qualcosa che sta molto a cuore alla Sceglie, alla Chiesa italiana perché una vera integrazione attraverso il canale della cultura è straordinariamente importante perché realizza un vero incontro non tra chi ha un bisogno e chi può soddisfarlo ma tra uomini tra uomini ciascuno di quali è portatore di un proprio patrimonio e nell'incontro con l'altro uomo e l'altro patrimonio di cui esse portatore può creare qualcosa di nuovo può creare qualcosa di nuovo e buono per tutti e io vengo da una terra la Sicilia la storia è un'altra terra che è la Sardegna il cui patrimonio culturale nasce dall'incontro tra patrimoni, lingue per cui nella mia lingua nella lingua di mia mamma ci sono parole arabe ci sono parole francesi spagnole mia mamma raccontava novelle che adesso solo riconosce essere quante arabe alcune greche e beh questo significa la cultura che non è l'accademia ma è la possibilità di condividere quel patrimonio che rende l'uomo l'uomo è un po' diverso da questo regno questo però mi mette anche un discorso sulla cittadinanza cosiddetta non c'è la cittadinanza anche questo è un tema molto caro della Cegna fatto motivo della riflessione di Firenze del 2022 perché la cittadinanza significa da una parte il dovere di star dentro una comunità contribuendo al suo sviluppo e al bene comune il tema della cittadinanza è il tema di un nucleo di responsabilità chiaramente identificabile e dall'altra parte un nucleo di diritti che rende agibile e che rende efficace la tutela della dignità del mio uomo voi sapete che la cegna tanto tempo da molti anni inizio diversi presidenti fa addirittura avrebbero cominciato già ad augurare la predisposizione di percorsi di concessione di cittadinanza a partire dalla partecipazione a percorsi scolastici lo cosiddetto bus e scuole che possono far sì che il tema dell'integrazione avvenga in uno col tema dell'incontro dentro un percorso di crescita umana cultura cioè scuola cittadinanza sono davvero sistemi di vita si dice inclusione però dove sia chiaro che l'inclusione non può essere assimilazione è promozione è promozione non possiamo permettere ragazze e ragazze di cittadini staniere di fare percorsi scolastici e di non avere lo stesso patrimonio di diritti e di dovere dei propri compagni di classe viviamo giorni drammatici lo scorso anno proprio in questo periodo il Papa in una preghiera alla Madonna diceva viviamo un'ora buia e dall'ottobre scorso possiamo dire che questo buio è diventato più finto carico di preoccupazioni e di intervisti ebbene quando c'è buio la prima reazione è di fare un convegno sul buio invece bisogna accendere delle luci e chissà che questo percorso l'incontro con questi nostri fratelli questo nostro convenire non sia in qualche modo profezia di un po' di luce di cui il mondo ha tanto bisogno grazie grazie dopo questa introduzione di un signor Giuseppe Batturi segretario generale della CEI partiamo con la presentazione della rapporta già pronta Manuela De Marco di Caritas Italiana che ci parlerà dell'immigrazione in Italia numeri sfide prospettive aiutate credo anche grazie grazie Paolo benvenuti ben trovati a tanti di voi sì mi baserò un po' su questa slide riassuntiva di tutti questi dati che vengono nel rapporto di migrazione che l'intervento insomma di Monsignor Batturi mi ha dato anche la possibilità di agganciarmi effettivamente a dei messaggi un po' positivi che questo rapporto lancia un po' anche in controtendenza rispetto agli anni scorsi abbiamo notato dei segnali di ripresa incoraggianti anche delle possibili piste di lavoro e di impegno in questo ambito favorite anche dalle indagini inedite che abbiamo lanciato un po' attraverso le nostre reti territoriali di carica ai migranti per esaminare alcuni aspetti che rimangono diciamo poco narrati dai dati stessi e di cui velocemente poi vi parlerò abbiamo poi la possibilità anche di sentire dal vivo insomma la testimonianza della collega che ci ha aiutato a fare questa una delle indagini territoriali ce ne sono state quattro con questo rapporto di migrazione quindi abbiamo voluto un po' aprire alla narrazione solamente con i dati per raccogliere storie e testimonianze più dirette dei cittadini stranieri e soprattutto in quegli ambiti più critici dai quali passa poi l'integrazione sul nostro territorio che sono lavoro che sono la scuola e con un affondo poi anche sulla appartenenza religiosa di cui vi parlerà poi il collega Simone che ringrazio sempre per la collaborazione che portiamo avanti positiva appunto nel rapporto per quello che che riguarda i dati di questo di questo anno notiamo sicuramente un aumento della presenza di cittadini stranieri residenti in controtendenza come dicevo prima rispetto al calo che era stato registrato invece durante il covid c'era stato un decremento dovuto anche a problemi insomma di allo stop che c'era stato rispetto ai rinnovi quindi una burocratizzazione rispetto al rilascio dei permessi di soggiorno che ha rallentato anche l'iscrizione nelle anagrafi che ha rallentato la concessione dei titoli e il fatto che i titoli emergano poi dalle banche dati l'incidenza è arrivata al 9% della popolazione straniera ovviamente con delle variabili sempre forti sappiamo che il nord è un'area territoriale dove c'è una maggiore incidenza che arriva e supera l'11% anche quella del centro è importante quindi anche in un certo momento delle presenze al centro si è notato il mezzogiorno rimane invece un po' indietro rispetto appunto all'incidenza complessiva della popolazione residente sul quadro delle nazionalità non è cambiato molto nelle prime tre posizioni rimangono storiche di storica presenza quella la prima posizione dei cittadini rumeni con oltre un milione di residenti seguono marocchini albanesi nelle altre due posizioni in calo il calo delle nazionalità storiche è qualcosa che da qualche anno sottolineiamo e a fronte di un sopravvanzare lo scorso anno di cittadinanza del subcontinente indiano soprattutto abbiamo notato una grande crescita di Bangladesh di Pakistan e di India quest'anno dobbiamo già un po' cambiare la narrazione perché abbiamo visto che invece i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini del Pakistan sono diminuiti quindi c'è un'estrema volatilità nelle posizioni dalla terza alla decima dei cittadini stranieri che ci parla un po' di questa proprio volatilità di questo cambiamento che registra un po' di anno in anno e che rappresenta un po' la cartina torna sole di quelle vicende anche politiche che portano poi a prevalere un flusso migratorio rispetto a un altro in Italia vedremo appunto cosa accadrà successivamente il dato importante di razionalità invece è l'Egitto è il grande sforzare dell'Egitto che già si era notato quindi qui non c'è una controtendenza rispetto all'anno precedente non cambia molto neanche nel panorama vado velocemente su quello che è cambiato poco anche i permessi di soggiorno rimane prevalente il rilascio dei permessi per motivi di famiglia anche se leggero calo sostanzialmente stabili il numero dei permessi per motivi di lavoro in lieve aumento quelli per motivi legati all'asilo e alla protezione internazionale anche in lieve risalita quelli della protezione temporale lasciati ai cittadini ucraini e anche in aumento quelli per studio e il filocinio che sono sempre una porzione interessante fin di studiare e di capire i percorsi di integrazione e l'attrattività anche dei percorsi di studio in Italia per i cittadini stranieri il dato anche sulle acquisizioni di cittadinanza abbiamo voluto mettere in rilievo perché ci sono state oltre 200.000 acquisizioni di cittadinanza e il dato che magari è poco significativo indicando quella parola altro il maggior motivo di rilascio è questo altro e questo altro sottende tutto quello che non ha ancora un pieno riconoscimento se vogliamo quindi l'abbiamo lasciato diciamo volutamente neutro per indicare tutte quelle situazioni in cui c'è un'acquisizione un po' per trasmissione di altri dei genitori quindi sono quei minori che acquisiscono perché hanno acquisito la cittadinanza i loro genitori oppure sono quei minori che sono nati in Italia e che a raggiungimento del 18esimo anno di età possono conseguire appunto la cittadinanza ma tutto quello che non è ancora pienamente riconosciuto nel dibattito sulla riforma della cittadinanza sono minoritarie anche se lievemente le acquisizioni sono sostanzialmente parlano di uno stesso fenomeno le acquisizioni per residenza continuativa nel nostro paese che sono la fetta più importante forse contrariamente al pregiudizio che su questo tema comunque c'è o c'era sulla maggioranza delle acquisizioni di cittadinanza dovute al matrimonio strumentale con un cittadino italiano da parte di un cittadino stranieno che invece è solo l'8,8% del totale quindi non c'è questa evidenza si tratta di percorsi di inserimento frutto di vita lavoro di regolare in Italia da almeno dieci anni per quello che riguarda appunto i percorsi di acquisizione per residenza continuativa la cosiddetta naturalizzazione il dato che abbiamo messo in evidenza abbiamo visto come segno di speranza appunto in questo rapporto è la vivacità occupazionale la crescita dell'occupazione che ha riguardato i cittadini stranieri lo scorso anno abbiamo avuto e poi ringrazio anche qualcosa di essere per ringraziare anche il ministero del lavoro che fa un grandissimo lavoro di raccolta dati un bellissimo rapporto che per noi è una fonte diciamo di dati compiuta completa fotografa veramente diversi aspetti e ci dà anche da quest'anno dove è stato poi lanciato un portale che permette di fare anche degli incroci nuovi è un portale interattivo in cui si inseriscono appunto delle variabili conosciti ma vengono fuori dei dati molto molto interessanti noi abbiamo quindi era potenzialmente si poteva fare tantissimo grazie alla quantità di dati che vengono raccolte noi ci siamo soffermati sulle assunzioni dei cittadini stranieri aumentate nel 4,7% aumentate e il dato anche che emerge è che purse continuano a rimanere prevalenti i settori di impiego come quello del lavoro domestico che assomma più del 10% del totale oppure del settore turistico alberghiero che arriva 6,5% o delle costruzioni in realtà la cosa e nonostante continui ad essere prevalente l'assunzione con la qualifica di operaio per i cittadini stranieri qualcosa si sta muovendo cioè si stanno muovendo le richieste dei datori di lavoro verso profili sempre più specializzati la stima le rilevazioni che fa Union Camere di richiesta delle aziende di assunzione di profili parla sempre di più di specializzazioni molto puntuali per ogni settore e di un fabbisogno quindi aumentato che ha portato in 4 anni la richiesta di assunzione di lavoratori straniere a crescere del 20% è un dato significativo con degli aumenti ancora più importanti per alcuni settori e nel settore dei servizi la richiesta di assunzioni è aumentata quasi fino al 60% e nell'industria che un terzo quindi è un altro dato per noi significativo che abbiamo posto in rilievo è come il 35% delle aziende che hanno assunto lo scorso anno hanno assunto almeno un cittadino straniero quindi c'è un grande dinamismo in qualche modo una richiesta del mercato del lavoro che fa il matching con la richiesta di profili sempre più specializzati questo ci aiuta a dire che in realtà dovremmo provare ad andare oltre a una richiesta a ritenere il mercato del lavoro dei cittadini stranieri un mercato solo a basso profilo c'è una richiesta invece di miglioramento di miglioramento del profilo professionale che quindi dovrebbe essere assolutamente accolta nell'ambito della formazione professionale per creare diciamo un matching sempre più virtuoso ed efficace sia per il lavoratore che per il datore di lavoro quindi c'è spazio di intervento sicuramente in questo in questo ambito permanono ovviamente delle criticità vado anche anche su queste permanono le criticità di assunzioni che sono prevalentemente a tempo determinato che e come dicevo prima assunzioni che riguardano sempre il 70% soprattutto la qualifica di impiegato di operaio però è cresciuta anche la porzione di richiesta di impiegati impiegati in quei settori prevalenti inserimento quindi se parliamo ad esempio dei trasporti che è il quarto settore di prevalente assunzione vi si chiedono anche gli impiegati della logistica quindi una serie di settori anche in crescita dal punto di vista della qualifica professionale questo è un dato diciamo che merita tutta una costruzione a parte e che ovviamente probabilmente dovrebbe essere raccolto anche dal mondo della scuola proprio per riagganciarne a quello che dicevamo signor Baturi è importante sostenere questi percorsi di formazione e quindi consentire anche ai giovani di finire il loro percorso scolastico invece quello che notiamo dai dati sulla scuola è purtroppo ancora un problema di abbandono scolastico importante perché il 35% mediamente dei minori iscritti nelle scuole italiane abbandona precocemente i percorsi di istruzione oltre che a contarsi che poi in alcune nazionalità superano anche il 50% nel caso del Bangla della Città della Sri Lanka quindi sono percorsi sicuramente da supportare perché se è vero che le assunzioni di cittadini stranieri riguardano più che gli italiani assunzioni di lavoratori giovani il 40% di questi lavoratori neossunti è tra i 15 e i 29 anni di età però il 15 di aggancio della professione un po' ci interroga e preoccupa in qualche modo proprio perché per sostenere poi la situazione difficile di molte famiglie straniere c'è un abbandono che è collegato appunto anche a questo fenomeno e non fa finire il ciclo di istruzione il ciclo di istruzione ai minori e su questo abbiamo un po' anche rinnovato quest'anno un'indagine che avevamo fatto delle ASL dei territori per il supporto proprio del disagio psicologico in queste situazioni con un grande anche lì potenziale di intervento di aumento proprio del servizio in queste situazioni quindi ci sono delle piste delle piste positive in cui evidentemente c'è una volontà di impegno e la creazione di sinergie territoriali che chiedono di andare verso questo rafforzamento e quindi c'è qualcosa dal quale si può già partire prima facevo l'aggancio alla povertà per ricollegarmi a quello che poi ha inbuto raccoglie situazioni di abbandono scolastico o di difficoltà di stabilità occupazionale e che poi si ritrova appunto nel fenomeno della povertà che riguarda le persone che si rivolgono ai centri di ascolto e ai servizi Caritas qui i cittadini stranieri continuano a prevalere rispetto all'utenza anche se con una percentuale leggermente inferiore rispetto all'anno passato comunque per il 57% rappresentano l'utenza dei centri di ascolto riportando situazioni in generale complessivamente di fragilità economica evidentemente di problemi anche di abitazione nel 23% sono proprio persone senza dimora ma sono persone anche che lavorano nel 28% parliamo dei casi di working pool per i cittadini stranieri che però non vengono supportati dalle misure di contrasto alla povertà varate dalla politica perché abbiamo potuto riportare il dato che per l'allora reddito di cittadinanza si parlava di 7,2% di famiglie straniere fruitrici di questo sostegno per la povertà a fronte del 27,2% di quelle italiane per i rigidi requisiti richiesti per l'accesso a un beneficio invece appunto che dovrebbe andare a camionerare quella situazione drammatica appunto della povertà che riguarda questi che riguarda appunto così diffusamente la nostra società quindi vado velocemente in conclusione lascio la parola a Simone per il resto dei dati per dire ci sono sicuramente luci e ombre abbiamo voluto essere positivi raccogliendo una serie di dati che anche le nostre indagini ci hanno ci hanno aiutato a supportare ce n'è una anche molto interessante sui libri come raccontano l'immigrazione i libri di testo scolastici anche qua c'è un linguaggio molto se vogliamo o datato o piedistico o incompleto che rappresenta il fenomeno quindi ripartire dall'istruzione dall'educazione significherebbe anche poter ripartire aiutare diciamo una riscrittura per i libri di testo che tenga conto delle complessità burocratiche dell'immigrazione non si parla nei libri di testo di quanto sia difficile soggiornare nel nostro paese quindi avviare dei percorsi di integrazione positivi nel nostro paese è una complessità che va assolutamente trasmessa appunto a livello sociale come non si parla del ruolo di supporto che da altri attori viene portato per sostenere il fenomeno e questa è un'altra carezza appunto che abbiamo rilato sull'istruzione sulla povertà anche abbiamo lanciato un'indagine per stabilire quali sono per indagare quali sono le strategie di resilienza che in questo quadro un po' nelle ombre di questo quadro spinge i cittadini stranieri a studiare delle alternative per garantire il sostentamento a sé e alla propria famiglia ma poi lasceremo la parola a chi ha seguito insomma questa importante rilevazione a Elena Carletti e quindi lascio la parola a Simone con questi segni che comunque di speranza si volgono in queste cose grazie grazie Emanuela e appunto adesso cediamo la parola a Simone Varisco è importante la sottolineatura che ha fatto anche sul discorso della scuola dell'integrazione e anche mi permetto di dire sulla cittadinanza è interessante poi vedere ai primi di novembre quanti magari di questi neocittadini poi emigrano a loro volta perché questo è un altro tema molto interessante Simone Varisco parla invece della cultura certamente che è un aspetto molto importante anche di questo rapporto e anche di come le nuove arrivati stanno cambiando le comunità religiose in Europa grazie un saluto intanto a tutte e a tutti e un ringraziamento mi unisco anch'io al ringraziamento al rettore Bonomo per l'invito in questa università lo rinnoveremo quando poi lo vedremo di persona perché è un'università particolarmente adatta anche a quelli che sono i contenuti del rapporto immigrazione e alle tanti aspetti che sono contenuti all'interno del rapporto nel ringraziare per questa grande opportunità per questa grande ospitalità voglio ringraziare anche il decano della facoltà di teologia il professore Don Muroni e anche il professor padre Aldo Scoda che in questo momento non è presente perché è impegnato con il capitolo degli Scalabrignani ma hanno intessuto questa rete di rapporti e di contatti anche per organizzare questo momento insieme non è un ringraziamento di circostanza ma lo voglio fare lo vogliamo assolutamente fare anche ai fondi 8x1000 che la Chiesa Cattolica mette a disposizione la conferenza episcopale mette a disposizione ogni anno e anche quest'anno con una rinnovata fiducia per questa pubblicazione che ormai ha 33 anni non potremmo essere qui a presentarla se non ci fossero appunto i fondi 8x1000 e anche grazie alla rete degli uffici CEI qui ne sono rappresentati alcuni vedo il direttore della fondazione Missio Don Giuseppe Pizzoli ma ce ne sono altri tanti altri che hanno anche direttamente collaborato l'ufficio per il lavoro pastorale sociale ecumenismo e dialogo interreligioso la salute e che hanno direttamente partecipato a questa ricerca e ringrazio anche sempre Emanuele Ricambio il piacere di lavorare con lei e con Caritas vorrei iniziare in realtà la sua eccellenza mi ha dato un assist fondamentale citando la potenza trasformatrice dell'educazione perché un po' in realtà il mio intervento è tutto basato sull'educazione è pensato proprio a partire dall'educazione e vorrei iniziare con una citazione da una testimonianza come sapete ormai da diversi anni all'interno del rapporto ci sono testimonianze dirette appunto una la ascolteremo anche oggi che completano assolutamente con piena dignità e con pari dignità quelle che sono le parti statistiche e le parti qualitative della ricerca è un modo per incarnare quelli che sono i numeri e quelli che sono le tendenze della ricerca i volti pratici di persone di persone migranti che hanno appunto le loro storie il loro portato e parto da questa citazione è tratta dall'interno del rapporto uno dei tanti contributi all'interno del rapporto è la storia di una giovane ragazza che proviene da un paese africano arriva in Italia per motivi anche di salute ormai ampiamente superati ma c'è un passaggio molto interessante all'interno di questa di questa testimonianza manca la lingua comune attraverso la quale stendere il dialogo non si fa evidentemente riferimento qui alla lingua intesa come idioma come imparare l'italiano ma quello che è il contesto quello che è il contesto culturale quello che è la mentalità quello che manca anche in questo caso si denuncia all'interno del contributo anche in quello che è il supporto dovrebbe essere il supporto di tipo psicologico manca questo linguaggio comune quindi manca quella possibilità di entrare in relazione e la relazione è un po' l'elemento fondante anche di questa edizione del rapporto il tema è tratto dal messaggio del Papa per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato che abbiamo celebrato qualche settimana fa il 29 settembre popoli in cammino Dio cammina con il suo popolo era il tema originale del messaggio ecco chiaramente questi popoli in cammino ci danno l'idea di una mobilità umana che è un fatto comunitario non è un fatto di singoli certamente ci possono essere singole persone migranti che si spostano ma in gran parte abbiamo gruppi che si spostano in qualche caso anche i gruppi familiari è un fatto comunitario per le persone migranti ma è un fatto comunitario anche per chi accoglie per la società di accoglienza è insieme certamente anche in base alle scelte operate dai singoli ma è insieme che si accoglie o si rifiuta è insieme che si include all'opposto della comunità quindi del fatto comunitario dalla mobilità abbiamo l'individualismo abbiamo la negazione della comunità ma attenzione perché l'individualismo lo vediamo anche nelle vite del quotidiano dal posto di lavoro alle relazioni interpersonali l'individualismo è la negazione non solo della comunità è la negazione dell'umanità stessa dell'umano perché l'umano si fonda sulla relazione quindi dobbiamo compiere quel passaggio e un po' il tema del Papa invita anche a questo l'idea della tenda l'idea del cammino il passaggio dall'essere cellule singole all'essere corpo all'essere corpo fatto di cellule ma che è un corpo anche sociale è un corpo che è la polis è un corpo anche politico da qui anche tutto quello che deriva in termini di cittadinanza e qualche giorno fa molto meglio di quanto potrei mai fare io l'ha espresso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricordando come la relazione citando anche la cittadinanza lo vedete lì citando anche quella che è la coesione sociale l'accoglienza il progresso l'integrazione è un'attività permanente non basta certamente non basta un convegno come quello di questa mattina serve formazione ma serve un percorso educativo continuo è la formazione continua anche alla relazione e allora ecco qui che è un po' il filo rosso se vogliamo il colore dell'edizione di quest'anno è più un filo verde che unisce i vari contributi all'interno del rapporto è proprio quello dell'educazione intesa come formazione certamente ma intesa come qualcosa che va molto al di là della formazione scolastica dell'istruzione ma è un'educazione allo stare insieme e qui mi piaceva sottolineare alcuni aspetti alcuni passaggi che dall'interno del rapporto hanno e riguardano hanno a che fare con l'educazione abbiamo ascoltato ci sono tantissime declinazioni possibili dell'educazione i 915.000 quasi alunni con cittadinanza non italiana nelle scuole il supporto con la didattica a distanza la problematica dei NIT e degli EIT di chi interrompe spesso forzatamente il percorso di formazione e di educazione ma ci sono appunto anche testimonianze dirette in questo senso questa è la storia che racconta di sé Casim Mohamed Ibrahim all'interno del rapporto lui che è autore non solo di 11 traversate nel Mediterraneo ma è anche autore di vicende e di un libro che le racconta in Italia molto dure di difficoltà di integrazione di difficoltà di sentirsi accettato e lui guarda caso è un educatore un educatore professionale eppure dice io qui ha anche esperienza con il carcere scoprirà di avere un mandato d'arresto di cui non era a conoscenza dice qualche istante prima allo specchio vedevo il padre di una bellissima famiglia uno studente al terzo anno di università a pochi mesi dalla laurea un educatore professionale un tutore volontario di due minori stranieri però tutto questo non è sufficiente a sentirsi e a vedersi incluso in quella relazione ad essere riconosciuto come cittadino italiano tra le tante forme di cittadinanza tra le tante forme di educazione di cui trattiamo all'interno del rapporto ce n'è una che spesso è sottovalutata se ne parla poco che è quella dell'educazione finanziaria in realtà si è iniziato negli ultimi anni a parlare un po' di educazione finanziaria rispetto ai giovani di includere l'educazione finanziaria nei programmi scolastici per formare appunto giovani con una gestione corretta del proprio patrimonio in realtà se ne parla molto poco in collegamento con le persone migranti che pure al pari forse più dei cittadini italiani hanno necessità di questo tipo di educazione perché patiscono e poi lo sentiremo negli interventi che seguiranno rispetto proprio alle difficoltà economiche patiscono situazioni di indebitamento patiscono situazioni di reato di truffa di frodi anche dal punto di vista finanziario e hanno necessità talvolta di rivolgersi a quelli che sono degli usurai quindi creando anche situazioni e aggravando ulteriormente le situazioni quindi l'educazione finanziaria però in che senso? Nel senso certamente del migrant banking di quello che è inteso appunto come dei prodotti finanziari o comunque una formazione finanziaria specificamente rivolta dalle banche alle persone migranti ma in che senso? Soltanto nel senso di prodotti finanziari? Speriamo di no in realtà molto di più nel dare una cittadinanza economica piena una piena partecipazione alla vita economica del paese anche attraverso la bancarizzazione delle persone migranti che va a contribuire a completare quella che è la inclusione la piena inclusione partecipazione civile politica attiva delle persone migranti nella società c'è poi un capitolo all'interno del rapporto che è molto votato agli aspetti culturali agli aspetti educativi ricorderete se avete avuto la bontà di leggere anche il rapporto dello scorso anno che abbiamo scelto di introdurre un capitolo specificamente dedicato alla cultura l'anno scorso ce l'avamo occupati del cinema del cinema dei migranti e sui migranti quest'anno abbiamo scelto il tema della musica una musica però non casuale ma una musica che in realtà è più una cultura la cultura hip hop va abbastanza di moda tra i giovani ma in realtà ci siamo e non solo speriamo ci siamo accorti che in realtà è un veicolo buono ottimo questo ce lo dicono gli studi all'interno del rapporto trovate un po' una panoramica di quella che è la musica migranti in Italia con una particolare attenzione la cultura hip hop come stile di vita anche non solo come genere musicale fatta dalla direzione generale dell'immigrazione del ministero del lavoro e anche all'università degli studi di Milano forse c'è anche l'autore di questo contributo in sala insieme ad altri autori autrici del rapporto che di nuovo ringrazio e ci siamo accorti che appunto emerge da questa da questa indagine che proprio la cultura hip hop rappresenta molto bene quell'insieme di dimensioni diverse che vivono le cosiddette seconde generazioni questi figli italiani di fatto tranne che per la cittadinanza di genitori che però sono di origine straniera e non hanno una cittadinanza italiana ne rappresenta le ricchezze i sogni gli auspici le prospettive qualche volta anche la violenza la ribellione la contrarietà l'esclusione da questa società e lo abbiamo fatto di nuovo attraverso degli studi di tipo quantitativo delle rilevazioni delle indagini di tipo qualitativo ma anche attraverso la testimonianza e la testimonianza è quella di una persona che forse molti di voi conosceranno certamente Amirissano un rapper uno scrittore un educatore lavora con progetti educativi nelle carceri e nelle scuole e lui stesso dice la cultura hip hop è stato un elemento fondamentale per me perché appunto raccoglie quelle differenze e le armonizza non solo nella musica ma in un sentire in un sentire comune e lui attraverso la cultura hip hop sia in Italia che negli Stati Uniti attua questi progetti appunto educativi nei confronti dei giovani anche con recupero di chi è detenuto ultima delle testimonianze che vi ricordo per che vi sottolineo dal rapporto di immigrazione sempre attinenti all'educazione è quella molto particolare di un missionario di un missionario clarettiano padre Lambert Bocchere che è stato missionario ad Gentes in terra di missione in Repubblica Dominicana è stato missionario a Cuba ed è oggi missionario in terra di missione a Roma perché continua ad essere missionario a Roma e dice mi ha educato di più la strada cioè la cultura in realtà che incontro nelle diverse aree di missione più ancora dice del seminario lo spirito che lui ricorda è quello dell'ubuntu in lingua bantu è il sentirsi accolti il provare appunto a trovare una comunità costruire una comunità e questo contributo si lega molto bene a tre temi che approfondiamo nella parte dedicata alla religione alla fede all'interno del rapporto immigrazione che sono la missionarietà sul quale poi interverrò fra poco la sinodalità abbiamo il contributo di Monsignor che si occupa del sinodo e dei legami con le persone migranti e con la chiesa locale sappiamo bene che nell'ottica della sinodalità soprattutto due sono i grandi luoghi di questa corresponsabilità il consiglio pastorale il diocesano e parrocchiale la chiesa locale dove si combinano questi elementi rispetto alla missionarietà e mi avvio alla conclusione abbiamo un'indagine fra quelle ricordate come inedite realizzate appositamente per il rapporto immigrazione che si occupa nello specifico di andare ad indagare quale è o quale potrebbe essere per meglio dire il ruolo delle persone migranti in termini di missionarietà e in termini di rapporto con la chiesa cattolica lo abbiamo fatto andando ad indagare cinque contesti europei di forte secolarizzazione quali sono quelli del nord Europa Svezia, Norvegia Islanda, Germania ma anche la Grecia e ovviamente confrontandoli poi con l'Italia per andare ad indagare qual è la situazione e quale ruolo hanno le persone migranti rispetto alla missionarietà forse la missionarietà è l'elemento dirlo in questa università credo sia particolarmente importante non è soltanto un elemento di come dire stranieri come destinatari della missionarietà ma come protagonisti della missionarietà e le persone migranti se c'è un tema che davvero può smontare quella narrazione di persone che sono in perenne stato di bisogno e di passività ma in realtà ponendole come elemento attivo di partecipazione è proprio l'elemento della missionarietà che cosa scopriamo da queste indagini scopriamo per esempio che in Germania ci sono 3 milioni e mezzo di cattolici di cittadinanza straniera il 16% del totale direte sono pochi sì ma in realtà sono l'unico tra i pochissimi elementi in controtendenza cioè in aumento rispetto a quello che è sapete bene la crisi della chiesa cattolica e del cattolicesimo in Germania ci sono poi sono soprattutto polacchi ci sono poi delle situazioni limite per esempio in Norvegia la maggioranza dei cattolici in Norvegia non è norvegese è polacca lo vedete lì i cattolici autoctoni in Norvegia non sono tantissimi la chiesa cattolica in Norvegia non è certamente la prima confessione all'interno del paese però vedete che sono soltanto al secondo posto in Islanda il 60-70% dei cattolici sono di origine polacca e di cittadinanza polacca ed è interessante chiudo su questa parte della ricerca una citazione che ci dice intervistato per il rapporto immigrazione Monsignor Jakob Roland il cancelliere ecclesiastico della dioce di Reykjavik dice sì l'accoglienza viene fatta ed è interessante la sfida per la chiesa cattolica in Islanda non è l'apertura verso i migranti ma è il contrario l'apertura dei migranti cattolici verso i cattolici autoctoni come a dire l'accoglienza in Islanda la fanno sì cattolici ma i cattolici stranieri verso i cattolici islandesi che sono una minoranza e questo è molto interessante e chiudo davvero sulla partenanza religiosa della situazione invece in Italia qual è la situazione in Italia e dove stiamo andando vedete che c'è una base molto forte ancora di maggioranza assoluta di cittadini stranieri che si stimano essere cristiani sono soprattutto cristiani ortodossi cristiani cattolici e a scendere altri cristiani fra cui i copti e gli evangelici tra le comunità prese in maniera singola abbiamo i musulmani sciiti e sunniti che comunque sono comunità di maggioranza relativa con quasi il 30% delle presenze e via via anche le altre appartenenze religiose sottolineo soltanto chi non professa alcuna religione che è in aumento progressivo siamo ormai sostanzialmente al 10% direi che negli ultimi almeno 6-7 anni quando facciamo questa rilevazione è aumentata significativamente questa quota e la componente Sikh solo per ricordare che all'interno del rapporto di quest'anno nella parte di dialogo interreligioso abbiamo la comunità Sikh che si racconta dove stiamo andando ve le rilevazioni sulle fasce d'età che sono una novità rispetto all'appartenenza religiosa di quest'anno ci dicono che i più giovani appartengono soprattutto alla comunità musulmana le cosiddette seconde generazioni mentre alla comunità ortodossa appartengono soprattutto persone con una certa età sono sostanzialmente le donne le collaboratrici familiari le collaboratrici personali le assistenti appunto le cosiddette badanti insomma in tutta la varietà di altre professioni che ci stanno attorno mentre invece i musulmani sono soprattutto ragazzi giovani famiglie giovane anche di famiglia mista che in Italia appunto creano famiglia mettono al mondo figli e quindi si stimano ammesso che poi sia realmente così erediti la religione dei genitori chiudo ringraziandovi davvero per l'attenzione con una speranza che credo possa essere fatta comune anche da da Manuela che è quella di avervi un po' complicato la visione sull'immigrazione spesso l'immigrazione ha un approccio molto semplificato molto banalizzato ecco se vi abbiamo un po' confuso le idee da un certo punto di vista lo dico con una battuta siamo contenti perché vuol dire che abbiamo aggiunto un po' di elementi nuovi di rottura rispetto ad una narrazione che davvero spesso è molto troppo piatta e troppo scontata grazie 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 ma dicevo il mio posto così può salutare perché intanto invitiamo al tavolo i due relatori intanto invitiamo subito Elena Carletti buongiorno a tutti generalmente c'era il padrone di casa semplicemente il custode non il padrone il padrone è troppo dovrebbe fare il saluto iniziale ma c'era un altro impegno e il traffico di Roma non ha consentito di arrivare ma mi permetto di fare un tentativo così molto breve per spiegare perché anche si è voluto ospitare oggi e quindi essere partecipi da parte dell'università urbaniana a questo evento lo dico non da rettore lo dico da persona che studia un po' il fenomeno internazionale e quindi anche tutto il fenomeno legato a quello che io chiamo la mobilità umana secondo la terminologia che viene utilizzata nelle organizzazioni internazionali l'idea parte dall'esistenza qui nell'università urbaniana di un apposito percorso di formazione nella facoltà di teologia è una specializzazione quindi parliamo di un master o di una licenza sulla mobilità umana la teologia della mobilità umana che è qualcosa che caratterizza la formazione teologica in modo unico rispetto alla realtà o alle realtà universitarie e questo credo che sia importante perché non c'è soltanto l'attenzione verso coloro che sono studenti già migranti cioè ne abbiamo qui approfittiamo tra virgolette della migrazione culturale così detta ma anche perché dall'università poi ripartono coloro che frequentano i corsi per poter operare nei diversi settori nelle chiese locali negli istituti religiosi o nella società civile per poter dare poi un'impronta specifica un'impronta specifica credo io ho raccolto le ultime parole dei curatori del rapporto ecco le ultime parole dei curatori del rapporto e cioè l'appiattimento sul tema migratorio il tema migratorio è troppo appiattito appiattito intorno a dei dibattiti che non hanno una rilevanza dal punto di vista di ciò che è il fenomeno mi permetto così di essere molto tracciami su questo aspetto perché il fenomeno è un fenomeno che è strutturale non è un fenomeno che si aggiunge a qualcosa e guardando l'indice come dire di sviluppo demografico a livello mondiale dobbiamo un attimo fare una riflessione che va al di là credo io anche del problema di poter aumentare la popolazione in Europa o poter dare un diverso input tutta quella che può essere la crescita demografica in Europa dico questo perché lo dico alla luce della popolazione studentesca di questa università la maggior parte arriva dall'Africa e dall'Asia se guardiamo le proiezioni demografiche fatte dal fondo delle Nazioni Unite della popolazione pubblicata adesso avremo una nuova edizione a fine novembre cioè il dato qual è? che da quel contesto noi avremo un aumento della popolazione tale da riuscire nel 2030 staremo sostanzialmente su oltre 5 miliardi di persone se saranno 10 o 9 5 miliardi di abitanti sul pianeta di conseguenza c'è come dire un investimento da fare da parte nostra parlo di formatori anzitutto gli studiosi di coloro che studi nel fenomeno c'è un investimento da fare verso quelle aree che non è semplicemente un investimento in termini di sviluppo e di aiuto allo sviluppo e in termini di condivisione di condivisione di un fenomeno che riguarda l'uomo e riguarda il fenomeno e lì credo che viene proprio in aiuto il tipo di formazione che viene dato qui all'Università Ubella non si tratta soltanto della lettura teologica ma di una lettura a cui concorrono anche le altre discipline che poi per il pensiero teologico diventano essenziali questo così semplicemente e brevemente un po' quello che quindi grazie eccellenza grazie a Caritas Internazionali grazie a Fondazione Migrantes grazie ai curatori del rapporto perché per noi era importante poter creare questa sinergia che spero possa continuare anzitutto nel dare visto che gli studenti hanno preso tutta una copia del rapporto ma la copia del rapporto è nuova presa semplicemente per mettere nello scaffale insieme a tanti perché potrebbe essere uno strumento e potremmo cioè il decano potremmo organizzare un seminario magari nel secondo semestre vi facciamo una riflessione sul rapporto perché anche gli studenti urbaniani possono dare il loro apporto a questa riflessione grazie 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 professore Bonomo che dà l'assist a Elena Carletti della Caritas Cesana di Bari di Tonto prima Manuela De Marco fa riferimento ai dati sulla povertà Elena Carletti parla delle strategie di resilienza dei cittadini stranieri che sono appunto nelle situazioni grazie buongiorno a tutti sì io ora proverò brevemente a restituirvi alcuni dati alcune riflessioni e suggestioni che derivano da questa indagine inedita e che sicuramente aprono ulteriori strade di approfondimento su alcuni aspetti in particolare che ne sono emersi e appunto si tratta di di un'indagine condotta in maniera congiunta da Caritas Italiana e da Fondazione Migrantes e che ha visto coinvolti intanto realizzata fra marzo aprile 2024 ha visto coinvolte 13 delle 14 aree metropolitane e 7 uffici caritas diocesani e 8 uffici migrantes diocesani ecco come è stato individuato il campione chiaramente è stata una scelta ragionata ma si è cercato di coinvolgere persone straniere residenti sul territorio non necessariamente anzi cercano di ampliare il vaccino rispetto ai beneficiari che solitamente abitano poi gli uffici caritas e migrantes ora quindi la finalità della rilevazione era per l'appunto approfondire le strategie di contrasto di resilienza di fronteggiamento di persone straniere presenti sul territorio anche in termini con un focus particolare sulle iniziative imprenditoriali e quindi sull'area anche a punto delle attività commerciali e chiaramente rilevare le condizioni di lavoro di chi appartiene in generale di chi appartiene e di chi rientra in questa categoria occupazionale il questionario che è stato somministrato e quindi ha indagato fondamentalmente al di là delle informazioni eneagratiche e familiari aspetti relativi alla condizione occupazionale e ai settori occupazionali le strategie come dicevamo di fronteggiamento di eventuali problemi economici e quindi qui emerge l'aspetto della resilienza di cui parlavamo il livello di soddisfazione elaborativa che è stato poi incrociato anche con i settori occupazionali per capire come entrassero in comunicazione e appunto l'esperienza nelle attività commerciali imprenditoriali sia diretta dei partecipanti sia eventualmente di persone conosciute e di connazionali brevemente qualche elemento rispetto al profilo anagrafico di chi ha risposto a questo questionario in generale in totale abbiamo ricevuto 670 risposte e circa il 70% dei rispondenti sono residenti al sud o nelle isole una lieve maggioranza di rispondenti uomini rispetto alle donne e la classe d'età diciamo più rappresentata e quella tra i 31 e 45 anni una varietà una grande varietà di provenienze di cittadinanze con diciamo una maggiore rappresentanza di Filippine Sri Lanka Marocco e Ucraina ora diciamo rispetto questo appunto ci interessa a voi rispetto a quello che diremo anche dopo la maggior parte dei rispondenti si è dichiarata appunto come occupato un 62% contro un 21% di disoccupati e però è come dire interessante anche osservare la percentuale che si è dichiarata che si è inserita nella porzione di altro perché probabilmente si può ipotizzare che a questa ecco a questa percentuale appartengano persone che magari svolgono lavori ma non contrattualizzati o parzialmente contrattualizzati quindi lavoro nero lavoro grigio e che quindi non si siano collocati nella percentuale di occupati per questa condizione diciamo di semi informalità rispetto al profilo lavorativo diciamo quasi il 50% di chi si è dichiarato occupato quindi delle persone occupate proviene da Filippine Sri Lanka Marocco e Ucraina ecco e rispetto invece la percentuale di studenti provengono soprattutto da paesi del continente africano con una maggioranza di scusate no no scusate con una maggioranza appunto di provenienza da Marocco Nigeria e Gambia fra gli occupati come è stato detto anche già in precedenza i settori maggiormente rappresentati sono quello domestico di cura e anche quello del commercio seguito appunto come si diceva di ristorazione e alberghi il settore agricolo che risulta meno rappresentato ma vedremo che è interessante rispetto all'incrocio con la soddisfazione lavorativa ora vedremo i miei termini la soddisfazione lavorativa è stata indagata sulla base di queste quattro dimensioni cosa possiamo dire rispetto a questo soprattutto nell'incrocio con i settori occupazionali allora in maniera abbastanza trasversale si è rilevato una bassa soddisfazione rispetto sicuramente a spostamenti e turni di lavoro e alla regolarità contrattuale che attraversa un po' tutti i settori lavorativi a cui afferiscono i rispondenti mentre l'aspetto delle relazioni umane risulta ecco registra un'alta soddisfazione tranne l'appunto nel settore agricolo che rispetto a tutti gli altri diciamo registra dei livelli bassi in tutti gli ambiti ma anche in quello delle relazioni umane ovviamente questo diciamo anche banalmente ci fa pensare alle modalità con cui si instaurano i rapporti di lavoro non sempre ma spesso nel settore agricolo che spesso sono improntati a forme diciamo di soprafazione e di sfruttamento rispetto ecco al focus di cui parlavamo quindi al lavoro in negozio dei rispondenti direttamente impiegati in lavoro in negozio sono risultati solo il 10% ma c'è stata una restituzione anche rispetto a conoscenze o anche di connazionali più di due terzi di questo 10% sono uomini e lavorano nel settore alimentare quindi negozi di alimentari la maggior parte il 75% dichiara di lavorare come dipendente mentre in 14 hanno dichiarato di essere proprio titolari degli esercizi commerciali un aspetto interessante che ritorna rispetto alle strategie di resilienza è il fatto che la poco meno della metà quindi una buona parte di questo 10% ha dichiarato di avere con il titolare dell'esercizio commerciale presso cui lavora un rapporto familiare o di parentela o di amicizia questo ci è sembrato interessante perché si ricollega all'aspetto della resilienza e al ruolo delle reti informali rispetto alle strategie di fronteggiamento di situazioni diciamo di vulnerabilità o di povertà che ora che vedremo insomma fra pochissimo e emerge rispetto alla soddisfazione lavorativa di chi opera di chi lavora e chi è impiegato all'interno dei negozi che tranne sempre per la dimensione delle relazioni umane le valutazioni sono basse e soprattutto qualcuno ha dichiarato di conoscere persone che vivono nel negozio dove anche lavorano è una realtà che conosciamo ecco questo è un aspetto che per esempio anche se è molto difficile sicuramente da indagare anche da un punto di vista qualitativo però si potrebbe sicuramente approfondire bene arriviamo alla conclusione con le strategie di resilienza innanzitutto da sottolineare che non tutti i rispondenti si sono dichiarati cioè hanno dichiarato di aver avuto un momento di necessità quindi 236 rispondenti un terzo del totale dichiarato di non aver avuto bisogno di aiuto da parte di nessuno per problemi economici chi però ha risposto ha dato molta rilevanza nella richiesta di aiuto in caso di problemi economici ad amici conoscenti familiari e alle realtà carica semigranti con cui sono entrati in contatto quindi siamo in una rete informale perché? perché gli altri attori che erano ricompresi nell'ambito del questionario quindi il comune i servizi sociali i banchi i sindacati hanno avuto percettuali molto molto più basse ora chiaramente al netto del fatto che alcune di queste persone sono entrate in contatto col questionario tramite le realtà carica migrantes però sicuramente l'aspetto delle reti informali è permanente quindi cosa possiamo dire come suggestioni finali e conclusive che si rileva rispetto al campione incontrato un modello di supporto familistico informale e quindi le reti informali svolgono un ruolo per le persone per i rispondenti ancora importante come ammortizzatori sociali d'altro canto però se da un lato queste reti sono importanti sono un supporto emotivo economico e sociale il rischio è che si stringano intorno alle persone straniere in quanto reti molto spesso dicono nazionali e quindi impediscono invece un'apertura più capillare sul territorio dal punto di vista economico lavorativo e sociale quindi sicuramente perpetuando appunto situazioni che possono essere già tendenzialmente vulnerabili quindi ecco questo aspetto sicuramente apre altre strade di approfondimento grazie mille bene io proseguo allora con il programma ci ha raggiunto al tavolo intanto Raffaele Ieva che rappresenta la direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del ministero del lavoro e delle politiche sociali e con lui andiamo a approfondire uno dei temi forti di questo rapporto che è quello dei minori intanto i minori stranieri non accompagnati e poi quello dei minori con background migratorio grazie mille buongiorno a tutti sì diciamo che voglio prendere un po' spunto da quello che è lo stesso titolo del rapporto cioè un po' di un cammino facendo leva un po' sul complesso fenomeno della mobilità umana che porta dentro di sé spinte esigenze mete e obiettivi che si incrociano e si incontrano partendo proprio dallo spunto sulla mobilità e sulle analisi statistiche riferite ai vari tempi trattati all'interno del rapporto anche io mi focalizzerò un po' su dati numeri che però portano dietro come abbiamo sentito anche prima persone persone la cui mobilità è sicuramente specifica e particolare ed è quella dei minori stranieri non accompagnati che entrano in Italia appunto da soli senza figure parentali di supporto e redici da un percorso migratorio che più delle volte è anche molto lungo e complesso e tortuoso e peraltro in cui l'Italia schesso rappresenta un luogo di passaggio qui abbiamo quella che è la definizione chiaramente di minore straniero non accompagnato e rispetto a questo la direzione generale dell'immigrazione quella presso la quale io lavoro è competente per quello che è il censimento e il monitoraggio delle presenze di minori in Italia attraverso il sistema informativo il SIM che viene implementato direttamente dagli antilocali dei territori che registrano gli arrivi dei minori attraverso il SIM è possibile monitorare quello che è l'iter completo del minore tracciando i collocamenti le pratiche amministrative in sua tutele e le uscite di competenza e i dati che poi vengono ricavati e stravolati dal sistema vengono pubblicati su una dashboard mensile che è consultabile sul sito istituzionale del ministero e viene realizzato un report semestrale di approfondimento in questa slide andiamo a mostrare un po' quello che è l'andamento delle presenze dei minori nel corso degli ultimi anni e possiamo vedere come sia un andamento che ha registrato diciamo dal 2022 una costante crescita e tanto da raddoppiare più che raddoppiare le presenze dei minori rispetto al triennio precedente nei primi mesi del 2024 abbiamo assistito per la prima volta un'inversione di tendenza seppur leggera ma che comunque lascia il numero di minori straniere non accompagnati presenti sul territorio sempre sopra le 20.000 presenze con questa slide invece andiamo a mostrare quella che è un po' la provenienza arrivato sempre sul focus dei minori e possiamo verificare come si tratti di una presenza che si attesta principalmente sul genere maschile che è quasi l'88% dei minori presenti e sui 17 anni che sono quasi al 51% 50,7% quindi determinando in qualche modo una forte connotazione in particolarità della presenza dei minori sul nostro territorio abbiamo cittadinanza e l'ingiziano al primo posto si tratta poi da Ucraina e Gambia quindi cittadinanza per quanto riguarda la distribuzione sul territorio italiano possiamo vedere come le presenze si concentrano maggiormente sulla Sicilia poi Lombardia e Campania ovviamente la presenza sul territorio siciliano legata al luogo di approdo che spesso abbiamo rispetto agli arrivi di eventi di sbarco per quanto riguarda poi gli ingressi dei minori sempre con riferimento alle annualità 22, 23 al primo semestre del 24 possiamo vedere che vi è un calo rispetto agli ingressi registrati nel 22 derivante anche dalla diminuzione degli ingressi degli ucraini sul territorio di minori ucraini la principale modalità di ingresso è quella diciamo dello sbarco e diciamo per l'anno di il 45% del totale invece sono stati i ritrovamenti presso di scale portuali marittimi e validi terrestri vi è principalmente poi un piccolo ingressi diciamo nelle mensilità primarie dovute chiaramente all'aumento degli eventi di sbarco per quanto riguarda poi le uscite dei minori stranieri al sistema di accoglienza possiamo vedere come il 65% degli uscite di derivino dal compimento della maggior età mentre l'altra motivazione che conta per il 31% è l'allontanamento volontario del minore che è chiaramente un evento particolarmente delicato e rispetto al quale abbiamo anche una slide più specifica che spesso ricollega l'allontanamento dalla struttura al progetto migratorio del minore che prevede diciamo uno spostamento verso altre mete dove poi hanno o reti amicali o comunque collegamenti che consentono di perseguire quello che è un po' il loro progetto migratorio anche per troppo pensano di trovare quelle che possono essere maggiori opportunità formative e lavorative un focus ovviamente su quelli che sono i minori strano accompagnati provenienti dall'Ucraina rispetto ai quali è evidente che si tratta di un fenomeno con delle proprie peculiarità nelle quali diciamo molto diversificate rispetto a tutte le altre perché possiamo vedere che comunque sia c'è una componente importante di minori di genere femminile abbiamo inoltre un'età media bassa differentemente da quanto avevamo notato prima quindi è oltretutto anche una valorizzazione del fenomeno dell'affido che invece è marginale purtroppo rispetto a quella che è la gestione dei minori stranieri non accompagnati negli altri casi quindi diciamo che nell'ultimo periodo poi abbiamo avuto una diminuzione comunque dei minori devuta anche al fatto che molti di quelli che erano arrivati negli anni scorsi hanno poi magari compiuto i 18 anni oppure sono iniziati i rientri in patria per coloro per i quali i tribunali non li hanno autorizzato ovviamente il rimpate diciamo il 51% quindi sono i genere femminile il 53% di età compresa tra i 7 e i 14 anni un altro aspetto importante che si è rilevato nel rapporto e di cui si è parlato anche prima era quello riferito al rapporto tra migranti e sistema finanziario rispetto a questo l'attenzione c'è anche da parte nostra è una dimensione che si effettivamente spesso viene sottovalutata e per la che invece deve avere una maggiore attenzione rispetto alla quale vogliamo avere una maggiore attenzione abbiamo un progetto in particolare che si chiama Futur che è alla seconda edizione e che in collaborazione con Union Camere promuove l'imprenditoria migrante finanziato dal Fondo Nazionale di Politiche Migratorie e che favorisce quello che è l'accesso sono i migranti alle Camere di Commercio tramite servizi e strutture dedicate e promuove la nascita di nuove imprese predisponendo percorsi di orientamento formazione e affiancamento di supporto per l'accesso al credito e diffonde strumenti di conoscenza che sono importanti appunto per i migranti per poter avere accesso a quelle che sono le risorse in cui possono rivolgersi da questo punto di vista quindi abbiamo anche tra i vari oltre a diversi rapporti a breve ne uscirà un altro su quelle che sono le imprese e l'inclusione finanziaria allo stato di inclusione finanziaria dei migranti abbiamo anche una dashboard che contiene diciamo si rapporta quelli che sono i dati elaborati dal registro delle imprese e che consente di fare alcune operazioni di confronto al fine di verificare un po' i trend negli ultimi anni per quanto riguarda l'imprenditoria migrante come dicevo quello che abbiamo fatto è stato cercare di promuovere alcuni percorsi che hanno portato persone che volevano avviare impresa a fluire di percorsi di orientamento 1600 persone poi chiaramente si va asciugando le informazioni sono andate 800 hanno costruito un business plan in 400 per poi realizzare 70 nuove imprese ovviamente questo è il fisiologico diciamo svilupparsi del dell'impresa nel senso che si parte comunque dall'orientamento di un'idea per poi formare a tal fine chi vuole percorrere quella strada e poi la costruzione dal punto di vista più concreto e l'apertura della nuova impresa dicevo prima persone dietro a questi numeri chiaramente ci sono poi persone che hanno realizzato diverse iniziative da imprese nell'ambito della ristorazione di Orghe al Matilien nella zona dei vari da parte di Deie e per quanto riguarda Vittoria l'apertura di un toletta per cani quindi vi ringrazio ancora per quegli spunti che avete fornito nel rapporto e vi amo un buon lavoro grazie 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 la parola di Ieva nei dati che ha messo in evidenza sui minori stranieri non accompagnati a proposito di persone quel 12% della Lombardia fa venire in mente Milano dove il problema dei minori stranieri non accompagnati in strada è molto forte ed è forte anche nel carcere visto che poi ci sono state diverse ribellioni oggi la popolazione carceraria minorile è fatta soprattutto da queste persone che fa vedere che c'è un disagio o un malessere che non viene affrontato il rapporto parla bene anche e chiarisce sempre ogni anno il tema della sicurezza a proposito delle narrazioni distorte e certo c'è una popolazione carceraria rilevante che non è nata in Italia ma i reati sono quelli esattamente che commette la maggior parte della popolazione carceraria italiana cioè reati contro il patrimonio e spaccio di stupefacenti quindi è una situazione comune anche in questo e non diciamo particolarmente allarmante veniamo all'ultima testimonianza come era stato preannunciato già seduta con noi Stefania Combo cos'è Teresa che rappresenta Lunaria e l'area segnatamente l'area migrazioni e antirazzismo a te la parola allora intanto grazie mille in particolar modo per il lavoro che è stato fatto su questo rapporto perché è molto importante è importante perché abbiamo visto anche negli interventi che mi hanno preceduta abbiamo visto tanti dati abbiamo visto quanto anche attraverso è vero forse dei numeri che possono sembrare freddi ma danno effettivamente la quantificazione di un fenomeno che è complesso il magnifico lettore giustamente prima lo definiva come strutturale e aggiungiamo come questo fenomeno strutturale purtroppo sia come anche ha giustamente detto il dottor Varisco narrato in maniera molto molto semplicistica ecco nella mia testimonianza come potete vedere non ho slide non utilizzerò dati cercherò quindi di utilizzare tutto attraverso la voce e un pezzo della mia vita che è anche fatta di attivismo ecco quando noi parliamo di cittadinanza perché io ho parlato di cittadinanza in qualche modo nella testimonianza che leggerete nel rapporto però l'ho fatto in una maniera un po' diversa rispetto a come di solito viene narrato quando si parla di cittadinanza noi pensiamo prima di tutto o appunto all'acquisizione di cittadinanza tramite i cosiddetti ius o iusodius o iuscole eccetera parliamo di naturalizzazione parliamo di tante cose e spesso parliamo dello sbarramento per l'acquisizione della cittadinanza che è dato principalmente dalla burocrazia poco si parla invece di un'altra soglia di sbarramento molto invisibile per sentirsi cittadini e cittadine che è quella della narrazione ed ecco è molto difficile sentirsi cittadini e cittadine in un contesto in cui narra non solo la propria persona ma i genitori i fratelli i amici come criminali stupratori spacciatori come persone in un qualche modo che non devono far parte della società e noi sappiamo come in generale c'è una narrazione proprio per tutti i crimini che va già di per sé a criminalizzare a stigmatizzare la persona immaginiamo poi se questa persona ha un background migratorio quindi non parlo solamente delle persone migranti ma parlo anche delle persone nate qua in Italia figli e figlie di migranti che comunque subiscono questo stigma ecco se c'è solo un'immagine della persona migrante indipendentemente che questa sia italiana con o senza cittadinanza come ci si può sentire i cittadini e cittadine e allora si ragiona ok diamo verso dato che non siamo cittadini e cittadine italiane indipendentemente da quello che sta nel documento allora definiamoci come persone straniere o persone migranti come vengono narrate le loro storie vengono raccontate è da quando c'è stato il grandissimo sbarco che penso di immagine la ricordiamo tutti e tutte di questa nave gigante piena di tante persone che arrivavano dall'Albania è da quel momento in cui la narrazione migratoria è solamente fatta di una massa di persone senza volti quindi significa che la narrazione della migrazione non ha la possibilità di avere una storia delle singole persone è sempre una storia di massa e le storie di masse purtroppo fanno sì che è facile fare come si suol dire di tutta l'erba un fascio ecco partendo da questa da questa diciamo visione da questa premessa io inizio questa testimonianza partendo da un piccolo spaccato della mia vita infantile perché i luoghi della formazione non sono anche solo luoghi in cui in maniera formale si può imparare dai libri che sono importantissimi ciò che è la migrazione ciò che sono le persone come relazionarsi ma si impara principalmente la relazione stessa anche col mondo esterno e le narrazioni che vengono fatti dai media che vengono poi assorbiti dai nostri genitori e poi dagli insegnanti diventano materia di discussione dei giovani e delle giovani a me è successo otto anni quando era da un po' di tempo che c'erano apposti i fini e si è iniziato a parlare moltissimo di clandestinità e al che con il mio compagnuccio di banco stavamo parlando tra di noi su quello che dicevano i nostri genitori cosa ne pensano i tuoi queste persone che arrivano cosa ne pensano ma tu sai cosa vuol dire clandestino io ho detto guarda io non lo so io credo di essere clandestina in qualche modo ovviamente non era così a otto anni va bene che avevo già firmato un po' di carte per i permessi di soggiorno che è la prima cosa che fanno i figli e figli di migranti appena imparano a scrivere ovvero la burocrazia siamo come dire una soft skill che forse dovremmo iniziare a mettere nel curriculum però ecco non avevo la coscienza di cosa significasse davvero clandestino o clandestina ma già da otto anni avevo la coscienza di non essere parte della società eventualmente di poter essere soggetta a criminalizzazione ed era un contesto in realtà molto piccolo non è il contesto della capitale in cui purtroppo già attraversandolo da adulto ho visto che un fenomeno in realtà più diffuso rispetto a un centro piccolo come possono essere le province del centro Lazio ecco da questo punto di vista è importante ripartire da questo concetto da come le narrazioni vengono assorbite da come le persone iniziano a sentirsi perché come hanno concluso tutti i terventi che mi hanno preceduta dietro questi dati questi numeri che grazie per il lavoro immenso che avete fatto ci sono però anche queste storie e non tutte le storie sono come quella che io riporto fatta di attivismo e consapevolezza perché delle volte è anche molto difficile fare rete e capire gli strumenti che si hanno i diritti che si hanno del poter portare avanti la propria voce questo è il lavoro che le organizzazioni fanno da tempo proprio per cercare di socializzare le cose che noi possiamo fare insieme i rapporti esistono anche per questo per avere una testimonianza scritta di una storia che non è fatta semplicemente di rivendicazione della propria dignità individuale della propria storia ma una rivendicazione collettiva di diritti che dobbiamo avere in maniera collettiva che passano da avere un permesso di soggiorno a riconoscersi la propria cittadinanza e sentirsi cittadini e cittadine nonostante il pezzo di carta e quindi brevemente cercherò di chiudere partendo proprio dall'importanza di questo immaginario che è ancora tutto da costruire abbiamo citato ed è bello che si parli molto della musica hip hop di cui sono fan nonostante forse non sia più considerata così giovane da offerte e bandi e cose varie però è proprio penso che quel movimento culturale che si sta creando dia la possibilità di far sì che le persone figlie e figlie di migranti ma anche giovani e giovani persone migranti possono vedersi in un testo possono vedersi un film possono vedersi nella letteratura nella fumantistica e vedersi rappresentate e rappresentate che è una cosa che quando ero giovane io non succedeva e che questa è una cosa che dobbiamo difendere dobbiamo difendere il diritto alla fantasia delle persone più giovani di potersi sentire rappresentati senza essere necessariamente criminali e questo passa dall'importanza dei punti non formali dei luoghi della formazione ma passa anche per la responsabilità di noi persone adulte nel lavoro che facciamo che può essere come nel mio caso un lavoro di comunicazione un lavoro di formazione un lavoro di informazione ma si tratta sostanzialmente di costruire costantemente una serie di reti che riescano a tutelare effettivamente il futuro di una comunità che noi non vogliamo che sia chiaramente identitaria come molto spesso ci viene raccontata ma che sia polifonica policolore e con tanti tanti punti di vista e questa è la cosa che dobbiamo difendere che è dall'incontro e dallo scontro o dalla dialettica per così dire che poi si possono creare effettivamente dei veri cambiamenti grazie siamo lieti quest'oggi di poter consegnare a operatori ricercatori studenti e a chiunque fosse interessato ai fenomeni della mobilità umana la nuova edizione la trentatresima dell'apporto immigrazione curato da carica sigliana grazie a Don Marco e fondazione Migrantes grazie perché l'abbiamo fatto insieme perché lavorare insieme non è semplice ed è bello il segno come ricordava prima il segno dell'esercizio organismi pastorali della conferenza episcopale italiana si tratta della più antica tra le pubblicazioni attualmente curate dalla fondazione Migrantes e fra le prime a occuparsi dall'inizio degli anni 90 dell'immigrazione in Italia abbiamo ascoltato come nel volume trovi uno spazio analisi statistiche riflessioni qualitative il mondo della ricerca e quello dell'incontro personale un respiro spirituale e lo sguardo di un futuro orientato al bene comune al diritto a vivere in dignità e all'accesso al sviluppo sostenibile non intendo soffermarmi oltre in questo momento sugli aspetti quantitativi dell'immigrazione in Italia né entrare nei dettagli di ogni singola tematica affrontata nel volume dal lavoro alla scuola dalla cultura alla comunicazione ringrazio per questo i due curatori del rapporto Manuela De Marco e Simone Varisco per Caritas Italiana e per Fondazione Migrantes insieme a tutte le curatrici e gli autori del rapporto del 2024 rappresentati tra i regatori e presenti anche in sala ciò che vorrei fare è evidenziare una caratteristica che distingue anche quest'anno il rapporto dell'immigrazione di Caritas Italiana e Fondazione Migrantes l'interconnessione dinamica tra i diversi contributi che lo compongono che mira a restituire la complessità e la relazionalità degli attuali per i nomi migratori di relazioni parla Papa Francesco su Fratelli Cicchi il numero sempre crescente di interconnessioni e di comunicazioni che avviluppano il nostro paese scrive Papa Francesco nella sua encirica rende più palpabile la consapevolezza dell'unità e della condivisione di un comune destino tra le nazioni della terra nei dinamismi della storia pur nella diversità delle etnie delle società e delle culture vediamo seminata così la vocazione e desidero sottolinearlo a formare una comunità composta da fratelli che si accolgono reciprocamente prendendosi cura gli uni degli altri e affermiamo questo tra scenari complessi come il segretario generale riferiva all'inizio di guerra una comunità composta da fratelli che si accolgono reciprocamente prendendosi cura gli uni degli altri è un richiamo importante non sarebbe possibile infatti realizzare un'efficace autentica accoglienza dei migranti né una loro protezione promozione integrazione i famosi quattro verdi se si curassero solo gli aspetti economici o lavorativi ignorando le dimensioni sociali e relazionali né tantomeno si darebbe una risposta adeguata alla persona integrale se si ricercasse esclusivamente una soluzione ai problemi abitativi o alimentari che pure la friggono senza prestare varie attenzioni agli aspetti culturali e religiosi che costituiscono invece dimensioni essenziali nella vita di ogni persona ringrazio la classe qui che è presente della mobilità umana europeaniana e ho visto studenti scalabriniani c'è fratello Gioacchino e dicendo queste frasi non possiamo non pensare di farsi al padre dei migranti a San Giovanni di Battista scalabrini prendersi cura della dimensione culturale e religiosa di ogni persona e quello che vale sto imparando a girare era l'aspetto che conoscevo di meno che mi sta appassionando e lo farò quest'anno girerò all'estero ancora per quello che potrò quante comunità italiane all'estero si ritrovano per aspetti culturali e religiosi e riscoprono la fede all'estero qualsiasi concezione e accoglienza che concepisse quest'ultima solo un impegno materiale sarebbe una pericolosa riduzione come abbiamo ascoltato l'ampia visione fornita dal rapporto immigrazione del 2024 si spinge a considerare il primo regalo tra i diversi ambiti che caratterizzano la vita di un uomo e di ogni donna senza i quali non sarebbe possibile esprimere al pieno il proprio essere e la propria personalità solo così fra l'altro potremmo realizzare un'autentica inclusione della persona migrante nel suo nuovo contesto sociale la quale può dirsi compiuta quando da ospiti spesso considerati passivi oppure costretti alla passività coloro che sono stati accolti diventino soggetti partecipi attivi offrendo un contributo personale alla crescita sociale del tessuto sociale del nostro paese del quale sono divenuti parte tale obiettivo rappresenta un'autentica sfida è questa la sfida è una scommessa per l'Europa per l'Italia per i territori locali chiamati a vedere in coloro che chiedono ospitalità non un peso bensì una ricchezza dal punto di vista umano lavorativo culturale e non ultimo spirituale in quanto comunità cristiana come evidenzia Papa Francesco nel suo messaggio per la centodecima giornata mondiale del migrante e dei rifugiati del 2024 l'accento posto sulla sua dimensione sinodale permette alla Chiesa dice il Papa di riscoprire la propria natura itinerante di popolo di Dio in cammino nella storia peregrinante diremmo migrante verso il regno dei cieli diceva San Giovanni Paolo II e questo l'ho ascoltato con le mie orecchie due volte a un tono con autorevolezza ai polacchi io polacco sono un migrante disse nel silenzio assoluto e in un'altra occasione siamo tutti migranti disse San Giovanni Paolo II pellegrini ma non randaggi la nostra meta è il paradiso è il regno dei cieli come ha detto quest'anno il messaggio della giornata mondiale ancora il Santo Padre Papa Francesco sottolinea come sia possibile vedere dei migranti del nostro tempo come in quelli di ogni epoca un'immagine viva viva del popolo di Dio in cammino verso la patria eterna e anche il tema scelto dal rapporto immigrazione 2024 popolo in cammino siamo ben consapevoli e concludo che quando il prossimo è una persona migrante si aggiungono sfide complesse come è scritto con franchezza e realismo nella fratelli tutti è altrettanto evidente però come uno sguardo interessato a conoscere l'altro a incontrarlo pur con tutte le difficoltà e gli ostacoli che questo implica diavita una prospettiva lontana dall'opinione diffusa più di Velli che vede nell'immigrante soltanto un'insidia e nell'opera di coloro che lo accompagnano un pericolo si tratta di sentimenti contrari alla vita cristiana che nella fede ci spinge invece avere il coraggio di riconoscere nell'altro un fratello e nel più piccolo di essi il Cristo stesso la fragilità non caratterizza soltanto gli altri ma ognuno di noi a partire da me ognuno di noi può essere quel piccolo grazie a tutti bene prima di andare voglio sapere se c'erano delle domande da porre prego no provi a venire qua ok aiuto solo una domanda veloce nel rapporto c'è qualche approfondimento sulla questione CPL perché attualmente è una questione molto all'ordine del giorno e rappresentano praticamente dei lager quindi vorrei capire come si pone il rapporto e se analizza questa questione che è molto molto importante per le persone migranti grazie rispondiamo risponde Emanuela De Marca si viene approfondita perché è sempre un indicatore della cosiddetta immigrazione irregolare cioè tanti rapporti per sfumare la presenza complessiva di cittadini stranieri vanno anche a cercare di vedere per dare un'immagine più completa possibile tutto quello che non è formalmente che non ha quei cittadini che non hanno un permesso di soggiorno irregolare quindi naturalmente per avere degli indicatori attendibili utilizziamo anche tutti i provvedimenti di allontanamento dal servizio italiano o di trattenimento nel CPS che la polizia il dipartimento di polizia realizza alle frontiere o sul servizio italiano e lo trattiamo sempre come dato e sempre mettiamo in evidenza che quest'anno come appunto la capacità poi di rimpatto effettivo di persone irregolari che sono sempre una fetta molto piccola rispetto alla titanità dei cittadini stranieri che purtroppo non hanno il permesso di soggiorno spesso proprio per gli esplettoi e per le difficoltà di una legge che presuppone che la persona sia all'estero e venga chiamata in Italia prevalentemente o per motivi di lavoro o per motivi di famiglia ma che non dà mai possibilità anche già se il territorio italiano è di poter legalizzare in qualche modo la sua presenza a meno che non passi dal canale dei basili eccetera sono altre storie indietro e a quel punto c'è un'efficacia dei provvedimenti di ripaglio che è sempre uscita tra il il 45% del totale dei provvedimenti non si riesce a rimandare indietro effettivamente queste persone quindi si mantiene in vita un apparato un sistema molto costoso molto dispendioso spesso anche la Corte dei Conti quindi non è una valutazione mia personale ma in vari rapporti arriva dietro la necessità forse di andare a tagliare proprio su spese che poi non sono efficaci dal punto di vista neanche economico oltre che essere diciamo lesile poi anche anche della dignità della persona tra l'altro noi diamo conto di due rapporti che sono usciti costando proprio sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri tutte e due una è una commissione mista poi hanno partecipato anche nei parlamentari oltre che esponenti della società civile e una è un rapporto di amnesty che è andato proprio a monitorare le condizioni di dignità dei costi centri e lo riportiamo nel rapporto un ulteriore motivo per dire oltre ad essere inefficaci sono piuttosto degradanti diciamo solo un dato se vogliamo editoriale è stato ricordato prima dal direttore generale con Pierpaolo il rapporto immigrazione la più antica diciamo delle pubblicazioni seguite dalla fondazione Migrantes non è l'unica rispetto ai CBR rispetto anche al tema dei richiedenti asilo rifugiati eccetera segnalo un rapporto che è rappresentato in dicembre dove c'è un approfondimento specifico proprio su tutta la parte dei richiedenti asilo e dell'asilo seguito da una collega della fondazione Migrantes Cristina Molfetta quindi anche lì ci sarà un ulteriore approfondimento altre domande tutto chiaro tutto chiaro allora non vedo mani alzate va bene allora possiamo chiudere i lavori grazie ricordo ancora e buona giornata grazie a tutti grazie a tutti